Katnap Dog, The Ubiwagi e Miss Delight mi hanno invitato da me. Ho paura. Accetterò prima il Katnap. Vente ti ho preso. Orecchie. Aspetta, quale dei due è reale? Aspetta forse lui. O lui. Ora fumo dalla bocca. Ok, ok, fammi vedere. Fumo. Evviva l'aggiornamento. Wow. Ogni volta che uccido il falso Katnap sto diventando più realistico Katnap. Ok, prima di tutto mostrami i tuoi jumpscares. Possono essere reali. Secondo. E ultimo. Wow, sto bene. Prova. Ok, bene. Un po' sospettoso. Sei sicuro? Ma va bene. Quarto. Ok. Bene. Ora tu. Era un po' sospetto. Ma resta vivo. Ora tocca a te. Trovare quale è reale. Questa è buona. Ora la donna del sonnellino. Era abbastanza reale. Per favore. No. Falso. Mi sento aggiornato. Questo sembra così buono. Ora tu. Mi spaventa. Vero ma. Bambino. Ora lui. era abbastanza reale. Ora tu. Buono. E' rimasto solo un coupé. Andare. Buono. Non spaventoso ma reale. E ne sono rimaste solo due. Andare. Ok. E' l'ultimo. Ume. Era sospetto. Perché sembrava un personaggio diverso. Ma vi lascio. Avevi ragione. Per ora. Ora mostrateli le vostre facce. Ok. Può essere reale. Il secondo. Torna indietro. Questo è Sus. Mr. Poppy Playtime. Ok. Terzo. Candy Barbie. Penso che potrebbe essere lui. Nani? Perché è un troll. L'uomo della pizza? E' falso. Wow. Aggiornamento. Wow. Tu. Cosa? Poppy è stato lui per tutto il tempo. Sess. Abbraccio. Spero che non mi trovi. Sembra falso. Ora bambino. Hamburger boxy? Ora il prossimo. Gatto. Prossimo. Mamma. Queste sono le possibili persone che potrebbero essere lui. Cosa è questo? E' ultimo. Uccello opila. Non c'è modo. Falso. Aggiornamento. Wow. Ha fatto l'upgrade. E' sembro illuminato. Quindi ora mostrami come usi il tuo respiro. Falso. Aggiornamento. Wow. Ha fatto. What the hell? Sei pronto? È il momento di fare il jumpscare. E' sembro illuminato. Quindi ora mostrami come usi il tuo respiro. bene. Ora tu. Ora lui. Ora lui. Non mi farò vedere. Non giudicarmi. Era brutale. Davvero brutale. Ora lei. Sembra reale. Ora tu. Aspetta cosa. Wow. Sembra finto. Ma io ti lascerò. perché tu sei un po' troppo. Ora tu. Ok. Tu. Sei falso per me. Ok. Lui era falso. Quindi ora lui. È buono. Il tuo turno. Bello bello. Ora lui. Ok. E ultimo. Anche finto. Ah andiamo. Aggiornamento per me. Wow. Sembra un robot. Ora dite qualcosa o cantate. Secondo. Smiling critters cuttap every day. Bene. Ora tu. Ok. Welcome to the smiling critters cuttap. Spero che non mi trovi perché sono uno vero. Il prossimo. One. Two. Smiling critters shoes. Bene. Ora lui. Smiling. 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 Critters. 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 Smiling. Buono. Prossimo. Ho ho ho. Cuttap. Cuttap. Che diavolo è questo? Sei falso. Cane. Lo sapevo. Ora tu. Hold up. Wait a minute. What the devil doing? Che diavolo è? I just got cuttap shake. Mmm that sounds delicious. Questo. Morire. Ok. Voi due. Cantate insieme. Bene. Aggiornamento. Smiling. Smiling. Wow. Ora cuttap. Era bravo a nascondersi. Quindi il punto peggiore viene eliminato. Dai. È tempo di cercare. Aspettare. Vedo qualcuno. È un brutto posto. Esci. Entra dentro. Forse su questa scala ora. Avevo ragione. Esci. Era un buon posto. Quindi sei un tipo sveglio. H&M controlliamo. Lo sapevo. Esci. E aspetta. Oh no. Da. Vedo qualcuno. Ti ha preso. Boom. Ne abbiamo trovati molti. Fammi vedere qui ora. Lo sapevo. Ma ce ne sono altri. Vi ho preso tutti. Entrate. Avete avuto dei brutti nascondigli. Quindi non siete sus. Ok. Ora ho bisogno di una radiografia. Wow. Questo è un posto pazzesco. Tu sei super sensibile. Aspetta. Vedo qualcosa lì. Ma non c'è nessuno. Oh e il prossimo è qui. Vieni fuori. Brutto posto. Ne sono rimasti solo due. Un e questo posto sembra buono. Lo sapevo. Non qui. Devo imbrogliare. Aspetta. Chi è questo? Ok. Eri il miglior nascondiglio. Mindy muori. Era Ugi Uagi. Così falso. Ora lancerò la pozione di bellezza. E vedrò cosa esce fuori. Fratello. Ora tu. Questo non è bello. Il prossimo. Wow ok. Drew. Ora tu. Che cos'è questo? Ora lui. Ragazza robo. Ora lui. Wow. Wow. Due a sinistra. Wow. E ultimo. Donna tv. Lascia che ti baci. Oh no. Morire. Oh Luigi. Ok ora mostrami cosa succede dopo aver mosso la coda. Oh. Ora lui. Ha scoreggiato. Può essere reale. Tu. Che diamine. E' il tuo turno. Puoi essere tu quello vero. Il tuo turno. Fratello che diamine. Il prossimo. Aspetta. La sua coda è strana. Non riesco a toglierla. E' strano. Il prossimo. Vediamo. E' adesso polifero. Ok. Ora tu. Si è trasformato in gatto. Non posso uccidere nessuno in questo momento. Aspetta. Mi sento aggiornato. Wow. Ora mostrami i tuoi ricordi. OMG. Ha usato il fumo. E loro sono morti. E lui è andato alle loro tombe. Potrebbe essere un ricordo reale. Successivo. Oh no. Il giocatore lo ha tradito. Può essere reale. Ci proverò perché non sono reale. Oh no. Ciao Katnap. Ciao Katnap. E io lo abbandonerò. Ora tocca a te. Oh no. No. Oh mio dio. Oh mio dio. E' così triste. Può essere un vero e proprio sonnellino. Ora è il quarto. Ora è il tuo turno. Hai tagliato un pilastro. Questo è male. Guarda la sua faccia. E' così triste. E' così vicino. Devo cambiare la mia voce. Li ho appena uccisi. Il prossimo. Ciao bambini. Ho un paio di ricordi. Vediamo. Tutti gli Ugi Ugi stavano cercando di dividerti a metà. Che tristezza. Il prossimo. Hai usato il tuo respiro per uccidere Critter sorridente. Questo è male. Molto male. Ora lui. Giocatore ha usato il suo zaino per far fuori i bambini dalla nascita. Aspetta. Ma non è la memoria del gatto. È la memoria dei giocatori. Ti ucciderò. Era Jax. E l'ultimo. Prima mi hanno gettato in una macchina tritatutto. Stava baciando le gambe lunghe della mamma davanti alle gambe lunghe del papà. E è stato davvero brutto. Stava piangendo per questo. Ma poi papà a gambe lunghe si è vendicato. Ok. Sei al sicuro. Ok. Ora disegnati. Ok. Il primo è bello. Il secondo. Perché c'è un coltello. Il prossimo. Questo sembra strano. E questo è rosso. Sus. Aspetta. È un giocatore. Morire. È un cane. Morire. Mi sento aggiornato. Che diamine. È questo. Ok. Ora Katnapa ha fatto un salto in alto. Vince chi salta più in alto. Tu hai fatto il salto peggiore quindi eliminazione. Bene. Ok. Ora mostratemi di nuovo i vostri ricordi. Che diamine. È questo. Ok. Ora Katnapa ha fatto un salto in alto. Vince chi salta più in alto. Per favore non giudicatemi. Oh my god. Ok. Sono il primo. Buona la prima. Ok. Saltiamo. Hold up. Wait a minute. Così vicino. È il mio turno. Oh my god. Così vicino. Andiamo. Andiamo. Bru. Andiamo. Sono in cima. Andiamo. Ne sono rimasti solo tre. Cosa? Ne sono rimasti solo due ma io sono quello vero. Spero che non mi troverai. Tu hai fatto il salto peggiore quindi eliminazione. Bene. Ok. Ora mostratemi di nuovo i vostri ricordi. Il giocatore stava baciando una signorina baciata. Questo è strano. Sei falso per me. Morire. TV donna. Cosa? Sono rimaste solo quattro. Mi chiedo quale sia quello vero. Il tuo turno. Così Katnap era con i suoi amici e stava combattendo con Ugiwaki. E loro lo hanno spaventato. Questo può essere vero. Ora tu. Che diavolo è questo? Brother no no. Questo è inappropriato e cattivo. Ora è il terzo. Un ragazzo lo ha usato e l'altro ragazzo è morto. E l'ultimo. Qualcuno ha mangiato il suo hamburger da McDonald's e poi Poppy lo ha ucciso. Questi sono ricordi reali. Ne rimangono solo quattro. Ok. Ora ha un compito davvero difficile. Voglio vedere la tua reazione al bacio della mamma con le gambe lunghe. No mamma gambe lunghe. Bacialo mamma. Si è clonato da solo. Oh no. Questa è una reazione strana. Ora tu. Reazione strana. Sono diventato un mostro. Ma va bene. Andiamo mamma. Il prossimo. Cosa. Ha vomitato. Questo è male. E l'ultimo. TV donna. Cosa. Eliminazione. Sono tre rimasti. Questo non è cutnap. Morire. Ne rimangono solo due. Quindi indovino. Questo è falso. Quindi sei vero. Hai ragione. Ora voglio accettare Dog Day. Devi trovare chi ha ucciso Dog Day per invitarlo come amico. Maio in critters. Abbiamo preso il controllo su di lui. No. Leapy. Please. Just go. Run. Eran. Eran. Perché sei entrato in lui? Oogie Wagey ci ha detto. Ok. L'ho solo spaventato. Che mene. Ti ho preso solo per il tè. Ok. Il prossimo. Miss Delight. Stavo cercando di aiutarlo perché gli stavano tagliando le gambe. Aspetta. Cosa sta succedendo? È tempo di tagliarti. Fermati. È troppo tardi. Non ha le gambe. Perché hai fatto questo? Tempo per te. Oh no. In cosa mi hai trasformato? Aiuto. Cos'è successo dopo? Qualcuno mi ha ucciso. Oh mio Dio. È così triste. Ok. Forse Catnab. Usavo il fumo per farli dormire. Catnab! Please. Help us go to sleep, Catnab. We need it. Ok. Allora si sono addormentati. Forse Boxee. No. No, ero solo arrabbiato con Catnab. Thank you. I hate this. Odio questo. Forse questo. Wow, sono perfetti. Ok, se non sei stato tu. Allora forse Plutotale. Dog Day controlla tutti i jumpscares dal capitolo 3, poi dal capitolo 2 e poi dal capitolo 1. Ok, sarà facile. Bao Bao in primo. Era così spaventoso. Ora maiale. Il prossimo è giallo. Oh mio Dio. Ora blu. Ora viola. Mi sento così male. Ora è il momento dell'unicorno. Andiamo. E ora verde. Il prossimo è Dog Day. Ai. Ora la bambola. Continuo a sorridere. Non perdo la fede. Ora Dog Day. Oh mio Dio. La mia testa. Il prossimo è Ukiwaki. Vediamo. Ora è il momento di CutNap. I'm sorry. Il prossimo è quello grigio. Andiamo. Ai. E ora il prototipo. Ai. Ok. Sono sopravvissuto. Quindi ora il capitolo 2. Oh no. Ok. Il prossimo è il gatto. La mia testa. Il prossimo è Player. Non so se sopravviver. Il prossimo è Bunzo Bunny. Cut B. è Foxy Boo. Mamma e Papàvero. Ora Fiore. Il prossimo è Daddy Long Legs. It's been sopravvissuto. Il prossimo è Pagapilla. Il prossimo è Robo. Potrei morire. E abbraccio. E ultimo. Poppy. Aspetta. Allora sei tu? Hai trovato l'assassino Dog Day e tuo amico. Ora è il momento di Nightmare Ukiwaki. Questa TV è fantastica. Welcome home. Fratello. Questo negozio è strano. Aspetta. E il giorno Dog Day? Andiamo lì. Ciao Dog Day. Sono un grande fan. Per favore aiutatemi. Cosa stanno facendo quei giocattoli? OMG cosa? OMG ce ne sono così tanti. Aiuto. Carlos no. Spero che Carlos stia bene e che questo cane sia solo un giocattolo. Aspetta. Aspetta. Questo sembra buono. Ah, lo prendo. Fammi trovare un cassiero. Ciao. Un catnab per favore. Che diamine, sai che questo negozio è strano? Ho giocattoli migliori a casa. Mamma, papà, sono tornato. Giocherò con i miei giocattoli. Finalmente. Aspetta, sono scomparsi. Forse li ha presi mio padre. Spero che non l'abbia fatto. Aspetta. Perché sono così grandi e sui muri? Ehi, figlio, ci fai i noodles. Va bene, papà. Ora ci proverò. Nom nom. Papà, ti è piaciuto. Era disgustoso. No, papà, mi dispiace. Vabbè, mamma! Mi sto nascondendo qui. I miei genitori mi odiano. Ma non mi arrenderò mai. E anche voi dovreste farlo. È ora di guardare la tv. Un macchie diavolo è questo. Credo che questa tv sia rotta. Andiamo a giocare. Welcome home. I'm a matern. The fat enemy. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the spikes. Bumme. Giocattoli. Cosa stai facendo? Sorpresa. Veloce. Costruiamo un muro. Ok, fatto. Vediamo le telecamere. Oh no, mia sorella e la mamma. Prossima telecamera. Devo vedere se c'è una via di fuga. La telecamera è morta. Ragazzi, non credo che uscirò mai da questa stanza. Aspetta, questo è Popcat. Gregory, dove sei? No, Popcat. Aspetta, sta arrivando qualcuno. Sono sopravvissuto. Perché questo odore è così cattivo? Ciao Gregory, ho scoreggiato. Fratello. Dobbiamo uscire da questa casa. E ho un'idea di come. Come Carlos. Io sono Katnab. Che diamine. Guarda. What's up? Ciao a te. Hello, Katnab. Come stai? Ugi, lui è falso. Io sono quello vero. Ugi controlla quale è reale. Giusto. Fammi vedere le tue sigarette che dormono. Non male. Tu. Punto per te. Grazie. Aspetta, che diamine. Ok, ora mostrami cosa hai manciato per cena. Non male. Ora Katnab secondo. Punto per te. E infine la cosa più importante. Katnab era una cantante professionista. Non sono un cantante professionista. I am Katnab come to destroy you. I am Katnab. Oh mio Dio. Così bella. Ora ti faccio saltare in aria. Aspetta. Te l'avevo detto che era falso. Torna indietro. Mi ha preso. Ah, vieni con me ora. Oh no. Hanno preso Carlos. Cosa gli faranno? Entra nell'operazione. Ora trasformiamolo in uno di noi. Non mi sento bene. Ora è il momento di prendere il prossimo. Vedo qualcuno qui. Let's do this. Veloce. Carlos, salta qui sulla mia schiena. Usciamo. Aspetta. Vido Katnab. No, Carlos. Carlos, scappiamo. Non mi sento bene. Oh no. Prototipo. No, per favore no. Smettila. Per favore. Katnab no. È vivo. Polizia, polizia. Ho trovato dei mostri in casa mia. Hahaha. Haha. Ok, vediamo questi mostri. Vieni. Ti prometto che sono reali. Qui, ma fai attenzione. Bambino, questi sono giocattoli. Non chiamare mai la polizia. Sono giocattoli normali. E sono molto arrabbiato. Ti darò una valutazione negativa. Dietro di te. Non guarderò. Non mi ingannerete. O-M-G no. Aspetta. Quei giocattoli sono veri? O-M-G cosa? O-M-G cosa? Carlos, stai bene? Aspetta. Sento qualcuno. Aspetta. Cosa è successo? Carlos, sei vivo? Cosa è successo al mio amico? È morto. Devo uscire e chiamare l'esercito. Mia zia è una soldatessa di bacon. Oh no, Katnab. Oh no, Miss Delight. Al bagno. Veloce. Vieni qui. Aspetta no. Usciamo. Katnab, non hai fatto il tuo lavoro e ci hai tradito. Muori ora. Farò lo stesso con te e la tua famiglia se non trovi Gregory. Come pagherà la tua famiglia per questo? Ti prego, non farlo. Lo troverò. Carlos, se potessi rianimarti lo farei. Inoltre ho preso in prestito i tuoi dieci Robux per il pranzo. Ma non lo saprai mai. Cosa? Oh Carlos. Aspetta, chi è questo? Aspetta cosa? Cosa? Kissimi si fai qualcosa con lui. Aspetta cosa? Aspetta cosa? Perché sto guardando un Katnab? Perché tu sarai il salvatore. Ora per fare l'upgrade devi passare attraverso tutti i jumpscares. Buona fortuna. Oh mio Dio. Ok. Allora, vediamo il primo. Così spaventoso. Il prossimo è il ragazzo rosso. Era così spaventoso. Ma sono sopravvissuto. Ora vediamo l'elefante jumpscares. Ora è il momento del peluche di Katnab. Uguale agli altri ma viola. Aspetta, sento il cambiamento. Sembra buono. Ora un icono. Ok, questo è lo stesso. Ora Dog Day. Ahi. E l'Obsti Opscoach. Spaventoso. Ne rimangono solo cinque. Ahi. Ora Ugi Wagi. Blood ha perso la faccia. Questo era il migliore. Ora Katnab. Sta diventando il numero uno. Ora Dog Day. Spaventoso. E l'ultimo. Prototipo. Vediamo. Spaventoso ma ora posso sentire l'aggiornamento. Aspetta. Mi sbaglio o ora posso sparare. Mi sento figo. Ok. Per ottenere il prossimo aggiornamento devi scivolare da questi scivoli. Ok. Veloce. Let's do this. Dove sono? Oh no. Chi è questo? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ce l'ho fatta. Tempo di aggiornamento. Sembro un po' un mutante. Veloce la prossima diapositiva. Katnab. Dove sono? Aspetta. Chi è questo? No 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 no. Torna indietro. Gas. Non mi sento bene. Sento il gas del Katnab. Oh mio Dio. Ma aspetta. Sento il prossimo aggiornamento. Wow. Sono mezzo oro Katnab. Così ora Dog Day scivola. Wow. Non c'è nessuno qui. Ok, ultimo aggiornamento. Oh mio Dio. Ho un aspetto terribile. Spero che possa sconfiggere quei mostri. Ha sparato alla famiglia e l'ha distrutta. Ti piace? Sì, è così bello. Wow wow wow. Sonnellino. Oh mio Dio. Sonnellino. È stato cattivo. Ha sparato alla famiglia con il giorno del cane. Sei un pessimo essere umano. Stava lodando il prototipo. Ok, il prossimo. È stato ucciso da prototipo. Ha diversi jumpscares. Così spaventoso. Successivo. È stato mutato. Vai al bene perché ho paura di te. Grazie. Mi sento migliorato. Wow, sono un robot. Successivo. Incubo di Ugi Uagi. Il suo jumpscare era dalla TV. Che bella TV. Che diavolo. Aiutatemi. Ha rubato il Dog Day alla sua TV. Ti ho preso solo per il tè. La sua famiglia era in pericolo. Giocatore, per favore, non farci questo. Lo farò. Tu sei buono per me. Ok, ora cane d'ane. Ok. Le sue gambe sono state tagliate da un prototipo. Le mie gambe aiutano. Aspetta, cosa stai facendo? Fratello. Le creature sorridenti sono entrate nel suo corpo e lui si è trasformato. Oh mio Dio, è stato spaventoso. Mi sento aggiornato. Wow, sembra un robot. Ok, per ottenere il prossimo aggiornamento. Uccidili tutti. Ok, sarà facile. Primo abbraccio. Usiamo la scatola. Il suo morto. Ora mamma. Mettiamola nel tritacarne. Ora cutnap. Usiamo il prototipo. E il prossimo cani d'ane. Userò le creature sorridenti. E ora poppi playtime ceo. La mano. No, lasciami andare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Andrai nella fornace. Non lasciarmi andare. Non lasciarmi andare. Enjoy the fall. E ultimo papavero. Facile. Così ora l'aggiornamento. Wow, siamo perfetti. Aspetta, chi è questo? Valuta tutti questi jumpscare per vedere qual è il migliore. Inizia con Dog Day. Oh no, lasciatemi. Per favore, vai e basta. Correre. Correre. Abbraccio Wagi. Benvenuto a casa. So male. Bene. Ora lei. Ora creatura rossa. Ora rosa. Ora blu. Ora bianco. Ai. Ora arancione. La mia testa. Ora verde. Ora giallo. E ora Ugi Uges. Il prossimo è Dino. Il prossimo è Dino spaventoso. Il prossimo è Paga Pillar. Spero che non sia spaventoso. Ai. Non vedo l'ora che è ridica Tna per Prototype. Ora Bunzo Bunny. Ai. Ora player ma con la maschera. Ora Gatto. Ai. Ora è il momento di Mommy Long Legs. Ha un aspetto strano. Ai. Ora è il momento di Kissimissi. e ora Kissimissima con Poppy. E ora Kissimissima con Poppy. Wakes up. Robot. Sembra così spaventoso. E Killy Billy. Guardate la sua pancia. Ora Ugi Uagi con Prototype. Ai. Ora Daisy. Mio. Ora Boxie Boo. Ora questa cosa. Andiamo. E ora Daddy Long Legs. Andiamo. Ai. Il prossimo è Ugi Uagi. Ma distrutto. Guardate la sua testa. È così triste. Andiamo. Ai. Ora Cutmap. Questo è ciò che stavo aspettando. Guardate la sua testa. E ora Prototype. Andiamo. Ora diamo vita a tutte le mie creazioni. Entra dentro il bambino. Il mio turno. Marrone o giallo. Marrone. Freddo. Coda arancione o nera. Quello arancione. Freddo. Lingua o questa bocca. Questa bocca. Wow. Pantaloni arancioni o blu. Arancia. Ho un bel aspetto. Mani arancioni o forti. Arancia. Wow. Sembra fantastico. Occhi strani o normali. Normal. Freddo. Questa cosa adesso. Wow. E ultimo. Wow. Ho un aspetto fantastico. Blu o viola. Viola. Oh. Freddo. Catena o catena verde. Ovviamente questo. Bene. Bocca o bocca insanguinata. Preferisco questo. Wow. Incredibile. Lingua o denti. Lingua. Oh. Occhi o occhiali da sole. Questi occhi sono strani. Ma li sceglierò. Wow. Fantastico. Ora caca o più occhi. Occhi. Wow. Fico. Gambe o mani. Mani. Wow. Fantastico. Gambe o scarpe. Zampe di gatto. Oh. Cos'è questo? Denti della coda o della punta. Coda. Oh. Sembra migliore. Orecchie o cuffie. Orecchie. Oh. Alito di fuoco o alito puzzolente. Penso che il fuoco. Ho l'alito di fuoco. Demone o angelo. Angelo ovviamente. Mi sono ribaltato. Sono un demone. No. Non essere come me. Uccidere persone o ospedale. Questo. Oh no. Mi sono ribaltato. In cosa mi trasformerò? Ora smiling critters. Sto trasformando crafty corn. Bianco o rosa. Ovviamente bianco. Non scelgo questo colore. Afro o corna. Corna. Oh. Fiore o fiore raro. Questo. Carino. Sembra fantastico. Unicorno o gambe arrabbiati. Gambe. Belle gambe. Coda o mano. Linea. Wow pazzesco. Cacca o bocca. Bocca. Fantastico. Afro o cacca. Afro. Wow. I miei capelli sono fantastici. Orecchie o cacca. Orecchie. Wow. Le mie orecchie sono fantastiche. Lascia uscire. Sono diventato un unicorno. Sono il prossimo. Una persona o molte. Molti. Wow. Ciano. Rosa. Bianco. Unicorno. Rosso. Giallo per il pollo. Verde per opi o scotch. Ora andiamo con il marrone. E viola per catna. Wow. Ora iniziamo con i sogni. Il primo. Bello. Ora il prossimo. Bello. Ora fiore. Bel fiore. Ora cuore. Death. Bel cuore. Ora fulmine. Wow. Ora catena cutnap. Catena wow nice. Giorno del cane. Bello. Ora orecchie. Bello. Ora orecchie rosa. Orecchie simpatiche. Ora orecchie opi o scotch. Belle. Ora orecchie da unicorno. Orecchie simpatiche. Ora orecchie di pollo. Ora questo. Belle orecchie tutto. Ora le cose. Bello. Ora questo. Tannato. Ora questo. Questo. E questo. E ora cambiamo. Bello. Ora questo. Wow. Ora maiale. Wow. Ora pollo. Wow andiamo. Ora unicorno. Bello. E ora catena. E ora il rosso. Wow questo è incredibile. Che se ne vadano. Mamma. Aspetta. Dammi il tuo bambino. Ora sei il mio bambino. Mai. E' morta. Aspetta. Sento che sto crescendo. Wow ho 5 anni. Ok. Ora valuta tutti i loro jumpscares per invecchiare fino a 10 anni. Oh no. Ok. Prima tu. Oh mio dio. Ora tu. Fa male. Solo un paio di persone sono rimaste. Tu. Oh mio dio. Verde. Non mi sento bene. Tu. Ora elefante. Siete tutti a metà strada. Oh mio dio. Quindi ora Ugi Wagi S. La mia testa si è rotta. Ora Dino. E' solo il grado 2 e sto già morendo. Ora paga Pilar. Ora lui. Stai bene figliolo? Nessun. Giocatore. Coniglio Bonzo. Chi è questo e perché è al ventitresimo posto? Oh. Do not turn me green. I am not a green. Boxy Boo. Out. Non ne sono rimasti molti. Tu. Ora lui. Ai. Ora papà gambe lunghe. Mi sono rimaste solo 3. Ai. 2. E l'ultimo. Sono sopravvissuto. E mi sento migliorato. Wow. Sembro così spaventoso. Lascia che ti valuti. Ha mostrato il suo utro al college show. Ciao. Ehi ragazzi. Lasciate che vi mostri la mia memoria. Come lo giudicate? Ha lanciato coltelli a Pammi. Wait a second. No. Don't worry my dear. You won't even die horribly. Well, I think we both had something to learn from that experience. Aveva amici al Cobaleno alla sua introduzione. Ha trasformato tutte le creature sorridenti in mutanti. Cosa gli è successo? Ora è l'elefante. Mio dio, così disgustoso. E l'ultimo. Che diamine è questo? Ora ti muterò. Per me è stato brutto. Era un genio della matematica e aveva un grande cervello. Sì, sono intelligente. Essere intelligenti è un bene, ma sei comunque un... bene. Evviva, è ora di aggiornarsi. Oh mio bene, sono così bello. Ok, ora devo baciare qualcuno per fare l'upgrade. Aspetta. Mi dispiace o no? Lascia che ti prenda. Lascia che ti lavi prima che i genitori ti vedano. Figlio, devi buttare via quella cosa. How many times have I told you to throw that thing away? Scream, thank you. I hate this. Don't worry son, I got you something else. 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 Bel lavoro. Li abbiamo uccisi. Ora penso che sia un miglioramento. Wow, sto così bene. Aspetta, chi è questa? OMG è così bella. Vieni e inseguimi. Torna qui. Aspetta cosa è successo. Trova quello vero e dopo ogni uccisione ti migliorerai. Quale dei due è vero? Prima vediamo la tua coda. Umme, questo è davvero sus. Lasciami tirare fuori. Lo sapevo, morire. Mi sento migliorato. Wow, sono epico. Ora, questo sembra un po' sospetto, ma non ti eliminerò ancora. Molti di loro sono sospetti. Aspetta, perché hai Boxiboo dietro di te? Mostrami la tua faccia. Boxiboo, lo sapevo. Ora fammi vedere i piedi. Ok, questo è normale. Ok, aspetta, questo è sus. Buono. Questo è strano. Aspetta, hai quattro piedi. Questo è strano. Normale. E tu hai dei piedi strani. Per me sei il più strano. Lo sapevo. Papà, gambe lunghe. Morire. Aggiornamento. Wow, sto così bene. Ok, ora mostrami i tuoi ricordi. Ok, tu. Tipo di suss. Tu. Ok, ora questo. Ho fatto un special guest. Blue. Woohoo. I hate me. Era sus. Il tuo turno. S.M.I.O.E. E' stato un sus anche per te. Ora donna gattaiola dai capelli rossi. Fido. Ora questo. O.M.I.O.E. Ora tu. Aspetta, questo è veramente sus. Mostrami la tua faccia. Unicorno. Lo sapevo. Mi sento aggiornato. Wow, sto così bene. Ok, quindi la prossima categoria. Mi fa impazzire. Catnap, do the trick for us. Yeah, do the trick, do the trick. Oh, you mean, this trick? I don't know what it was. But something about that cat just made us all feel safe. Buono. Tu. Oh mio Dio. Due a sinistra. E l'ultimo. Sei falso. Lo sapevo. Opio scotch. Mi sento aggiornato. Oh mio Dio. Cos'è questo? Ok, ora disegnate voi stessi e mostratemi il disegno. Prima. Bene. Questo è sus. Quarto. Buono. Bello. Ben fatto. Aspettare. Questo è strano. Bello. Aspetta. Cos'è questo? Non è un sonnellino. E ho un gatto dolce. Morire. Finzi. Lo sapevo. Ok. Oggi è il mio compleanno. Quindi fammi vedere cosa hai preso per me. Cacca di gatto. Cosa? Sus. Tu. Freddy fa sbeare. Prossimo. Oh no, questo gatto. Non può essere vero. Prossimo. Abbracciare i wujes. Ora tu. Ma no. Questo è sus. Prossimo. Oh no, cos'è questo? Ma questo può essere reale perché sa cosa mangio. Prossimo. Oh mio Dio no. Avanti. Aspetta. Cos'è questo? E l'ultimo. Freddy fa sbear? Questo è falso. Morire. Mi sento migliorato. Wow. Sembro così gigante e buono. Ok. Ora mostrami la tua reazione quando ti togli la coda. Fumo a tre colori? E' strano. La seconda. Aspetta. Cosa? Perché era un figlio di un giorno da cani? Strano. Terzo. Disgustoso. Successivo. Aspettare. Perché assomiglia a mamma gambe lunghe? Non importa. Prossimo. Aspetta. Ha vomitato un carlino. Che non può essere reale. Prossimo. Cuoi. E' strano. Prossimo. Disgustoso. Prossimo uno. Wow. Ok. Il prossimo. Drew. E' ultimo. E' anormale. Ok. Ora voglio vedere i tuoi film. Aspetta. Sono tre film di Ubi Uges. Lo sapevo. Ah. Il prossimo. No. No. Cat now. No. No. Wow. Incredibile. Il prossimo. Viviamo. Non così tanto. Ora tu. Non male. Ora lei. Buono. Ora tu. Bello. E' l'ultimo. Vediamo. Non è la catnap woman. Lo sapevo. Mi sento aggiornato. OMG ho tre teste. Aspettate. Questo è davvero un sus. Mostrami la tua faccia. OMG non è possibile. Tempo di aggiornamento. Oh mio. Sembra così bello. Oh my god. Ora la donna catnap aveva un salto molto alto con il salto più basso perde. Oh no. Sono il primo. Blu così male. Sono il prossimo. Andiamo. Bello. Facciamolo. Ah facile. Sono il prossimo. What the hell? Cosa? Non c'è modo. Io sono il prossimo. E io sono l'ultimo. Morire. Aggiornamento. OMG. Sembro incredibile. Ora ti ucciderò. E vedrò cosa c'è dentro la tua bara. Primo. Buono. Il prossimo. Buono. Terzo. Bello. Non sembra finto. Quarto. Questo è un po' sus. Successivo. Ok. Successivo. Ok. Successivo. Aspetta cosa? Mamma gambe lunghe. Morire. Ne rimangono cinque. Quindi mostrami la tua mutazione. Oh mio dio. Il secondo. Così buono. Il terzo. Un ragno. Bello. Il prossimo. Aspetta Missy e Poppy. Morire. L'ultimo. Ancora tu. Cosa? Quindi ne sono rimasti solo tre. Quindi ora mostratemi i vostri animali domestici. Buono. Il prossimo. Sembra finto. E ultimo. Buono. Ma immagino che questo sia falso perché ha le ali. Ah. E questa è la vera donna Katnap. Katnap si è innamorato di a Katnap Woman. E semplicemente tutti. Ti amiamo. Smettila di fare il simpatico. Stai andando a triturare come a mamma gambe lunghe. Cosa? No. Lasciami in pace. Per favore no no morirò ora. Ah lavoro facile. Aspettare. Abbiamo bisogno di creare un nuovo Katnap Woman. Quindi prima pelusce e poi pozione di crescita. Essere una donna. Wow sembro davvero disgustoso e reale e sospettoso. Wow. Catena viola o questa? Gialla. Wow. Questa faccia o questa? Preferisco baciare la bocca. Che aspetto strano. Ora capelli viola o pelliccia viola? Capelli viola. Ora unghie rosse o unghie colorate? Rosso. Wow bello. Ora queste orecchie o queste? Viola. Così cool. Coda viola o ciano? Viola. Così grande. Respiro realistico o non realistico? Realistico. Oh mio dio. Così tanto fumo. Ultimo. Essere una Katnap Woman. Wow sto così bene. Aspettare. Perché sono così realistica? Il mio turno. Molti o uno? Molti. Wow sembriamo pazzi. Ora giallo. Bello. Ora rosa. Così cool. Ora arancione. Ora blu. Wow. Fresco. Ora rosso. Verde. Sorprendente. E bianco. Così ora cambia. Ora fulmine. Ora fiore. Wow stiamo iniziando ad avere un bel aspetto. Ora questo. E ora le orecchie. Wow così cool. Orecchie verdi. Così cool. Prossimo. Bello. Orecchie gialle. Ora questo. Wow siamo così cool. E ora gli occhi. Wow così cool. E ora cambiamo. Wow siamo così belli. Annoiarsi. Proprietario maschio o proprietario femmina. Proprietario ragazzo come nella vita. Wow. Ora questa faccia o questa. Questo è così realistico. Wow. Bel viso. Queste orecchie o queste. Katnap. Wow belle orecchie. Cerniera o cerniera sul viso. Questo. Wow. Sembro un peluche. Queste mani o queste. Preferisco queste. Wow. Così cool. Ora normale o realistico. Realistico. Wow. Fumo normale o rosso. Rosso. O uccide. Ora occhi realistici o questi. Questi wow. Ora coda o coda. Coda. Buono. Questa testa o questo. Questo. Wow. Ora jumpscare o questo. Jumpscare. Wow sono spaventoso. E ultimo. Sì realistico. Aspetta. Sto facendo un glitch. Perché sono così realistico? Fratello perché siamo così realisti? Devi vedere le facce di tutti e poi fare l'upgrade. Ok. Prima a Mommy Long Legs. Sono il doppiatore di Mommy Long Legs. Un nuovo compagno di giochi. È passato così tanto tempo. Ti chiedo di giocare pulito. Aspetta. Mi sento aggiornato. Che miglioramento. Ora player. Cosa? Carlino un pilastro. Aspetta cosa? Non c'è modo. Papavero. È davvero a Poppy? Oh mio Dio. Ora io stesso a Cutnap. Così dolce. Ora rosso. Oh mio Dio. Un orso. Ora pollo. Aspetta. Mi sento aggiornato. Wow. Ora maiale. Dolce. Verde. È così dolce nella vita reale. Il mitico unicorno. Wow. Ora Cutnap Woman. Dolce Day. È solo un cane. Ora modo. E l'ultimo a Kissy Missy. Non c'è modo. Così mi sento aggiornato. Sono più realista. Ma ora voglio di più. Per ottenere il prossimo upgrade dovrai sopravvivere a tutti i loro jumpscares. Tu per primo perdente. Non fa paura a Maial. Non fa paura per niente. Giallo. Vediamo. Quarto. Non siete spaventosi. Unicorno. Stigati. Ora tu. Ora tu. Grado 15. È stato spaventoso ma sono sopravvissuto. Ciao. Ora ho Paga Pilar. Molto spaventoso. Player. Mommy Long Legs. È di livello 40. Hunt. Ora a Kissy Missy con Poppy. Ora ho Boxy Boo. Spaventoso. Cutnap. Sono quasi morto. E l'ultimo a Cutnap Woman. Oh. Sono appena nato. Mio Dio. Sembi un bambino. Ahi. Il prossimo è un Pupescoach. Andiamo. Ahi. Ora Dove Day. È così spaventoso. Ora Cutnap ma piccolo. Ora Elefante. Ahi. Ora Rosa. Ahi Creatura Rossa. E ora Dog Day. Ahi. Non ne sono rimasti molti. Quindi ora Ugi Wooges. E ora Poppy. Sto peggio. Ora c'è Nightmare Ugi. Saltiamo. Ciao. Il prossimo è Kissy Missy. Ora Mommy. E ora Cutnap. Non riesco a respirare. Ora Paga Pilar. Ahi. Ora questo gatto. Ci sta a malapena in questa cosa. Ora Missy Delight. Andiamo. Ahi. Ora Dino. Ora Bunzo Bunny. Aiuto. Ora giocatore. Ora è il momento di Boxy Boo. Il prossimo è Daddy Long Legs. 4 3 2 Ahi. Ora Daisy. Oh mio Dio. Ora Cutnap Donna. E ora Ugi Wagi Ai, aspetta, non mi sento bene, aiuto Mancano tutti, ho bisogno di disegnare Ora Cutnab Fratello mi sento aggiornamento Wow, sono incredibile Ok, ora è il momento dell'introduzione Prossimo disegno veloce Oh mio dio, il prossimo è mancante E il prossimo è un Cutnab Fatto E ora veloce qui E l'ultimo Cutnab Ora disegniamo un Dog Day E ora è il momento delle creature sorridenti Finalmente vi ho preso tutti E ora è il momento di controllare i vostri jump scares Il primo è Red Critter Spaventoso Ora Unicorno Vediamo Ahi, sono più distrutto Il prossimo è l'elefante Non mi sento bene Ora Cutnab Ahi, ora lui Fa male Il prossimo Ho un regalo speciale per te Davvero Grazie Odio questo Non preoccuparti Figliolo Ti ho portato altro Ecco a te Grazie mamma Grazie papà Wow, lo adoro Ti piace? Sì, è così bello Ma come hai iniziato tutto? Papà voglio un giocatolo per Natale Scegli uno ragazzo Oh, oh, oh Ne voglio uno viola Wow, sto nascendo Prima testa Poi il torso Ora la coda Ora i denti Cos'è questo? Ora questo E questo Ora gli occhi Bello Denti Salti di gioia Ora Gas Che cosa è questo? Ora Cutnab Molto bene Ciao a tutti OMG, è così dolce Oh no, sei così sporca Lascia che ti lavi Prima che i genitori ti vedano Figliolo, devi buttare via quella cosa You never listen, do you? How many times have I told you To throw that thing away? Mama Please I'm not enough It's time to go What? You can think You can think Are you okay? Ow Oh my god Aspetta Dove sono? Devi fare il salto di qualità Per tornare dalla tua famiglia E per fare il salto di qualità Uccidi la finta donna del pisolino Ok Prima di tutto Questi due sembrano molto simpati Prima di tutto Anche tu Aspetta È finto Tempo di aggiornamento Wow Ora disegnate voi stessi Che cos'è questo? Buono Bello Wow Sembra ok Aspetta cosa? Bello Buono Cosa? Che diavolo? Questo è falso È un cane Morire Ora canta una canzone Buono Il prossimo Il suo sus Prossimo Buono Prossimo Oh colera C'è tu Freddy Fazbear? Falso Morire Freddy Come back Tornare Aggiornamento Andiamo Era sus Mamma gambe lunghe Lo sapevo Aggiornamento Andiamo Ora mostrami cosa c'è nella tua scatola Prima Cosa? Sembra un vero e proprio sonnellino Il prossimo Cosa? Prossimo Prossimo Cosa? Di più? E altro E altro Cosa? E più? Ora tocca a te Sembra un boxy boo Non c'è modo Muori sei falso Lo sapevo Aspetta Questo sembra sospetto Lascia che ti tolga la maschera Lo sapevo E tempo di aggiornamento Qualcuno ha ucciso l'uccello opila Mia moglie La mia mamma no Troverò l'assassino Non preoccuparti È stato uno di voi Bambini del film Bambino del film Eri tu? No L'ho lanciata sulla luna Ma era solo per divertimento Era così dolce Rispetto a te Ci stavamo divertendo Finché degli uomini in giacca Non l'hanno rubata Cosa c'è? Questo uccello non ti appartiene Dobbiamo restituirlo Al suo vero proprietario Per favore Mantieni la calma E segui Cosa? Quindi l'hai rubato A questo bambino? Stavamo facendo Degli esperimenti su di lei Opila Bevi questo Ok Ah sei un perdente Quindi l'hai uccisa Andrai in prigione No Chi li ha uccisi? Tu Quindi è stato una blanda No Stavo facendo uno scherzo ai youtuber In quel momento Ti vedo Adam scappa Wow ragazzi Justin è pazzo Oh mio dio Cosa faccio? Oh mio dio Oh mio dio Ok La mia ultima vittima Oh mio dio Quindi l'hai incisa No te lo prometto Non sono stato io Cosa? È morto Non è possibile Aspetta Cos'è questo? Bambam È tuo Forse L'hai ucciso No Non sono stato io Ero su un palco E tutti mi odiavano Perché mi trollavano Perdente Perché hai fatto questo a me bro Perdente Bambam Ora tocca a me Na 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 Amo cantare Ti vogliamo bene Bambalena Perché hai fatto questo a me bro Non può essere così Guardati dietro Quindi hai ucciso Bambalena Non è possibile Ma chi ha ucciso Opila allora? Ho visto che qualcuno l'ha colpita con l'auto Ehi Opila Attenzione C'è un guidatore scadente Oh mio dio Ho visto che Pigsten controllava l'auto No Non sono stato io Mi sono innamorato di lei Chiederò un appuntamento alla mia cotta Opila Ok Un'ora dopo Ok mi chiedo cosa mi ha fatto Cosa Pesche Ti amo Ah non sarò mai con te L'hai incisa con un coltello No era uno scherzo Ma lei mi ha fatto uno jumpscare Era uno scherzo Te lo prometto Non mi importa No Per favore smettila Sfermati No Forse qualcuno della tua famiglia ha voluto aiutarti e l'ha uccisa No Mio fratello si è fuso Disgustoso Chi l'ha ucciso Cos'è questo? I capelli di Amanda Stavo usando il coltello Ma non suopila Guarda Bello lavoro Possiamo usare un coltello affilato Non penso che dovremmo farlo da soli È sempre buono essere coraggiosi quando sei da solo Guarda sono un pirata Ah Non sembra sicuro Oh mio dio È stato così irresponsabile Ma aspetta Cos'è questo? Nastro Non ascoltatela Ha ucciso Opila Te lo prometto Che hai detto? Oh mio dio Cosa? Woolly Adesso tocca a te Cosa? Oh mio dio Mi hai salvato Sì Aspetta Posso vedere il tuo coltello? Sì Chiume dell'uncello Opila No Mi stava bullizzando Ma non l'ho uccisa No Per favore no Non ferirmi Ah Perdente Ti taglierò il naso No 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 Prenderò vendetta su di te Cane Puoi darmi il tuo naso? Fammi fare per te Grazie Dammi il tuo naso Amico Mai Quindi hai ucciso l'uncello Opila No No Perché l'hai ucciso? Non sono stato io Stavo togliendo le maschere a Garten dei personaggi di Ban Ban Sono sceriffo e oggi vedrò le facce di tutti quei criminali Prima Selina di Lumaca Amanda Come hai fatto a saperlo? Il prossimo Nab Nab Per favore no 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 Poliziotto Barry Fratello Sceriffo Signor Flynn Flem Wow Ora Zolfius Cosa? Nani? Tuberi Porcaro Per favore non mostrare questo in camera Mister Beast Oh my god Credevo che tu stessi regalando dei soldi Ora Kanguro Adam di Lenkybox Ora tu Justin di Lennycox Hold up Wait a minute Tempo di Ban Ban Per favore non mostrare questo Krik Craft A Ti amo fratello Bambalena Jenna Ma aspetta Ne manca uno Uccello opila Aspetta Fermati Tornare Per favore Lasciami in pace Mai Sei arrestato Non è possibile È sopravvissuta ed è andata a cercare aiuto Ho bisogno di aiuto Questa è la famiglia perfetta Facciamo una reazione a qualche jumpscare Chiederò loro di adottarmi Ehi Potete adottarmi? Cibo Cibo Quindi siete stati voi L'avete mangiata Oh mio dio No No Sono venuti per lei Chi? Bro No Non è possibile Di nuovo le luci Ehi L'avete uccisa voi? Per parlare dobbiamo avere la testa al suo posto Ok Lasciatemi disegnare per voi Fatto Il prossimo Bene E l'ultimo Siete pronti Controlliamo Mi fa male Ok Ora dimmi cosa hai fatto a opila Ci deve dei soldi Quindi l'abbiamo spaventata Ok Dateci i soldi O useremo i nostri jumpscare su di voi No 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 Per favore Non sopravvivrei Quindi date i soldi Non li ho Jumpscare Metti mi piace e iscriviti prima che tutte le paure passino e salverai opila L'hai uccisa Il caso è chiuso Aspetta Cosa? Ma ci bullizzava fin dalla nascita Credo sia giunto il momento Amico Amico Spaventerò questi ragazzi con uno spavento improvviso Ah Sono un buffone Ma non è comunque una ragione per uccidere le persone Andrai in prigione Ma non è morta Ehi Ehi Fermati Cosa hai fatto a quelle entità? Ome Pensavo che avrebbero svelato il mio segreto Quale segreto? Hai inciso opila? Ho usato la magia per tagliarla in due Ma non ha funzionato Oggi taglierò opila in due Oh mio dio Spero tu sappia cosa fare Iniziamo Controlliamo Ome 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 Va bene E Non sembra buono Ome Opila mi dispiace Ok amico Andrai in prigione per questo trucco di magia No Aspettiamo il meglio Cosa ho fatto? Ehm Chi sei? Hai ucciso la falsa opila Ora decidi quale è la vera Questo è falso Ho indovinato giusto Per verificare quale è reale Disegnati Fatto Opila disegna incredibilmente bene Quindi sei fuori Avevo ragione Disegna ora il tuo amore Fatto Va bene Sappiamo tutti che opila ama lo sceriffo Avevo ragione Non ho ucciso opila Quindi se non sei stato tu Allora chi? Non è possibile Il prossimo Ah Ah Aspetta Ehi Cosa? Fermati Perché ridi accanto a lei? Ridevamo perché la odiamo Perché? Perché voleva mostrare a tutti le nostre vere voci Sto per mostrare le vostre voci reali di Garten di personaggi Bamban Prima lumaca Per favore Fa male Prossimo Sceriffo Dobbiamo porre fine a questa follia Non abbiamo molto tempo Arriveranno presto Poi Jumbo Vieni qui Cosa hai detto? Vieni qui? O qualcosa del genere Il prossimo Seyfiddles Sentiamolo Voce straordinaria Sei solo un insetto Adoro questo verso Ok E l'ultima Zolfio Per favore non mostrarlo Per favore non mostrarlo Lo farò Piacere di conoscerti Vedo tutto Il tuo tempo è finito Perché hai fatto questo? Che cos'è questo? Aiuto Ho tanta paura Cadrò No È caduta e morta È tutta colpa tua L'hai incisa No È sopravvissuta Sono vivo O quindi è colpa di Jumbo No Ho cercato di baciarla Ti bacerò Per favore no Per favore fermati Fermati È mia Ok Quindi qualcuno rosso Ha fatto questo I bambini di Bambana Non lo farebbero mai Sono troppo dolci Fratelli Adesso Ok Quindi l'hai fatto tu L'ho presa E l'ho gettata nel fuoco Cosa? Opila è in questa borsa La getterò nel fuoco Ah Quindi sei stato tu? Il caso è chiuso Aspetta Cosa? Ho trovato un video Che non c'era Opila In questa borsa Oh no Vediamo chi c'era dentro Fiddles Non è possibile Controlla la chiocciola Selene No Non sono stata io Eravamo fratelli Penso che sia il momento Perché questa è diversa? Ah 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 Così arrabbiata Ed infine Vieni qui Quindi l'hai uccisa? No Erano i suoi fratelli Non è possibile Di nuovo Aspetta Dove va questo sangue? Qui Chi è questo? La famiglia Mab Mab Non l'abbiamo fatto noi Ehm Sei un sospettato No Eravamo in Squid Game Ma hai ucciso Opila No Eravamo in Squid Game Andare Skibi perché non vai? Non preoccuparti Opila Ci penso io Come lo spiegherai? Era solo un gioco Non è morta Non c'è modo Aspetta Di nuovo Cosa? Cosa è successo? Chi è questo? Ehi Sei stato arrestato Dimmi cosa hai fatto a questo posto E dov'è Opila? Posto Pensavo che non lo avresti mai visto Ok ragazzi Chi salta più lontano vince Ti eliminerò Opila Mai Vai Ho vinto Perdente Ma tu avevi un'auto migliore Non è giusto Verità Opila vince Cosa? Non può essere così Ok Ti abbiamo preso Ora andrai in prigione No E' ora di partire Oh my god Ah Ora ti cambio No 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 Sei pronto a cambiare? No No per favore Esi Brr Perchè c'è di così bassa qualità Non voglio assomigliare a questo MMM ok Ragazzi Cononi regolate chez un franget Diventa più realistica Ok Andiamo fratelli Spero che sopra vivrano a questo Creator di costino fratelli Prima di tuto niente spaventi Facciamolo E ora di si volare Spavento Solo fatta Aspetta Cento calcosa Wow siamo più qualificati Ora e il momento di affranger la prossima regola Procima persona invisibile Biscono le bosioni dell'invisibilità Wow Esi Dobbiamo prenderlo in giro Cento calcosa su di no E smettila subito Oh my god Si abbiamo scopito il bulo Cento la prossima evoluzione Wow Sombriamo amici arcobaleno del supermercato Procima regola Non usarla si volo vicino al laca Ciao possiamo entrar No Esi Fratello Ok ragazzi adesso è il momento Si Wow questa è la mia si volo Entra Oh wow Bella stanza Aspetta Ragazzi non si volate Che cosa non ti sento Cosa è successo Ragazzi questo posto non è normale Oh no cosa abbiamo fatto Ma abbiamo affronto la prossima regola Wow Sombriamo così realistici Cosa stanza facendo Devo distruggerli Procima regola non si volare con 4 persone contemporaneamente Ok Ok diamo Si amo blocage Ehi Va tenda qui Non possiamo Faro una punizione perte Noni Tempo di si bella Aaaaaaah 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 Fa mal Ce non ti fermi ti impedi rodi un frange en le regol Aaaaaah 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 Faman ma diamo ancora evoluzione Cosa sono più realistico Ninchiu Oooooooohh 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 Ong Il prossimo e non l'anciare pechine la piscina Osqualoki Andiamo Aaaaaaah Facile Wow laifato di rosso Silofato Silofato Aaaaaaah 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 Asciamo diventando più simili a veri rainbow friends Rompiamo di più Messina persona grassa che salta nella casa Ok Mettiamo del cibo Abbastanza Mangiamo Odio Ok sono pronto Andiamo a salta No Controlla il tuo peso Aaaaaah 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 Vediamo Aaaaaah Odio troppo Non ploi Andar Lofaro Ciao Che cosa Salto A bel salto Grazi ragazzi Proxima Proxima Evoluzione in arrivo No Assembriamo quasi rainbow friends ma senza colori Fantastico Infrangette la Proxima regola Non bene Abbiamo bisogno di più sicure La Proxima regola è niente TNT sullo si volo Ok lo TNT in diamo Non è lo vedono Butiamo lo E mi sono perso in questo si volo Si lo fatto Ehi Olo Ola siamini in pace Oca Ok se la biama fatta Sambriamo super rige Opora di cosa a cadra dopo aver affrontato la Proxima regola Niente personale Oso andà Controla la tua Altesa Bene Il mio turno Bene C'è troppo alto Forza verde Si vola Ola 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 Proxima regola affronta non si posso credere Nuova evoluzione in arrivo Ragazzi smettutla Il mio capo si star a biando Non si interessa Abbiamo bisogno della Proxima evoluzione Oddio Questo è così realistico Oddio questo è di più Fantastico Sambriamo tutti troppo belli Non andare dalla parte spagliata dello si volo Ok e lo proviamo A funziona Va bene E nella mia trappola Prendilo a rancione Va bene Dove sono Aspettaci su accent grave di etro di me Mi piaccia inscriviti prima di jumpscare Vediamo la prossima evoluzione What the hell Wow siamo così realistici E vero Ma non sono quando Non preoccuparti Affrangeriamo la prossima regola Messa un fantasma nel parco joshi Proso andiamo dentro Eh si E iniant abiti da fantasma Ok allora guardami E cosa Spavanti amore alcuni bambini Ci capiamo da lui Farò aggiungere Proxima regola infranta Facile Ok questo perché non stiamo agiando Rompiamo tuto le regole Evvedremo Perveder perché Ok nessina magica sullo cidolo Stiamo evo quando e fantasma Si viene che il fantasma Etropo tempo per Sherrasti Andiamo fantasmi Per favore fantasmi Affinzionato Corri rosso Questo parco acquatico sondra brutto Ma la prossima regola affronta Po all'entrar nel condotto Ok vediamo Ecco il condotto Andiamo Onostano arrivando Sisono salvo Wow questo posto essi Di regola rimasta Nessun combattimento E si E i voi combattere Mi ha fatto mal Malai roto Encora uno Assi ultima regola Non distrugger il parco joshi Per distrugger il parco joshi Devo salta in alto e salta Oh my god Invoca alipo E l'ostofasio Smetila subito Fermare Aspetano Aspetano E la mia occasione A la mia occasione Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Eeeeh Oh my god No way La diamo fatura è tempo per la prossima evoluzione. Sambra Rolistico. Proximo. Odio toccarano. Anciamia cose cambietta. Sambriamo mezzurri. Andiamo a casa. Insilo. Ce voyo tener la prossima evoluzione. Devo valutarti. Era super bello sotto la machra. Aspetta fami vedè. Vero. Bleu. Oni ragazza viola braxiarlo. Usir da lui. Fa più malato che annoi. Era così popolare che issu a fan distrusero la sua casa. Aspetta cosa. Essi. E il lui vive lì. E il lui vive lì. E il lui vive lì. Cosa sta succedendo. Questa è triste ma ancora una volta non è male. Stava mangiando ogni rinbo fri un per esser il miglio. Ok prima male. Ma come un buono. Grazie. E il lui vive lì. 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 Sono brutto. Fonsé brutto. Vesula terra per ottenere l'ultima evoluzione. Procima persona. Stava usando dal condotto. Sì sposo aiuta. Grazie. Mi ha il salvatto la vita. Nessun problema. Bene. Calcuno ne la vita real si è transformato in l'iperigiano donzetto oscertzetto. Waoste ispirando i bambini. Bene. Nessuno la amato per tutta la sua vita. Aspetta mostramelo. Amo lascula. Ce se kione. Sono così triste. Ok questo è molto triste. Bene. E brutto sotto la machra. Brutto sotto la machra va bene questo è molto triste. Ma non male fratello. Grazie. Questa è la sua facciane è la vita reale. Non c'è brutto. Procimo. Mi dispiace per te. Tutti è lo prendo vanno in giro perché è alto. Fratello è lo prendo a punire. Ti stava no maltratando senza motivo. Steri se vando una punizia. Ono, no, che cosa, no. Stava cercando di ottenere l'ultima evoluzione diventa umano. Stava cercando di ottenere l'ultima evoluzione diventa umano. A odiarlo. Sto piangendo è così triste. Ero altissimo massi e pompato è diventa tò fortissimo. Questa è una punizia di ottenere l'ultima evoluzione. Questa è una punizia di ottenere l'ultima evoluzione. Questa è una punizia di ottenere l'ultima evoluzione diventa reale. Di nuovo ma. Il tuo passato non sembra buono. Quando ha giocato ha nascondino ha ottenuto il suo posto. Va bene male. Rosso. Ok, il prossimo. Ragazzo Rosso. Edivantato super realistico ma volva e servipio. Pio trasformarsi in civolo. La sua evoluzione mutant eras kifosa. Ok, voglio veder la tua evoluzione. Quindy va buon fine. Il tuo volto della vita. Eh sì. Va trovar un'evoluzione migliore. Va bene. Però tenere l'ultima evoluzione. È necessario raccogliere tutti gli scivoli. Noello faro. Noello faro. Noello faro. Ok, il mio reproprio li. Capito. E non sembra realistico sono stato truffato. Oh, no 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 no. Prima io. No, no no no. Noi. Quello dicui o'bisone o'perstar migliore. So no pazesco. Wow! è vero, so volar. Questa è la mia evoluzione. Ho visto tutte le vostre vere facce e ora è meglio che vi nascondiate o ve le mostrerò. Aspetta cosa? Scappiamo. Non posso scappare. Mi nasconderò dentro. Wow, bel posto. Vi vedo. No. Oddio, ho sentito qualcuno morire. Lei l'ha ucciso. Trovarli è troppo difficile. Devo accendere i raggi X. Vedo qualcuno lì. Salta su. Ok, il prossimo è qui. Lei è lì. Aspetta cosa è questo? A stella. Dove? Corri. Ciao, ciao, maiale. Schierare un nuovo mostro. Ok, devo trovare il prossimo posto. Aspetta. Questo è il nuovo cercatore. Qui. Pensavo che ci fosse qualcuno qui. Ma ti vedo. No. Penso che se ne sia andato. Velocemente. Wow. Perfetto. Ti vedo. Penso di sapere dove si trova. No. Dove devo andare? Corri. Facile. Vieni un nuovo mostro. Oh, no. Nuovo mostro. Corri. Qui. Oh, mi questa stanza non sembra sicura. Oh, no. Non so dove scappare. Wow, dove sono? Oh, no. È la mia fine. Devo saltare. È l'unica opzione. A. A è morto. Non ancora A. Nel frattempo. Sono tornato. Ed è ora di imbrogliare a nascondino. Drone. Che cos'è questo? Ti ho preso. Oh, no. Sta barando. Non è giusto. Aspetta. È tempo di scivolare. Aspetta no. Dove dovrei nascondermi? Qui. Ok. Velocemente. Ora via. Finalmente. Qui siamo al sicuro per ora. Oh, grazie, bambalena. Hai anche una piscina qui. Non sembra normale. Vero, ma aspetta. Cosa? Guardate dietro di voi. Di cosa stai parlando? Oh, no. Stinger. Vieni qui. Oh, no. Nascondersi velocemente. Forse qui. Ok. Devo trovare un nascondiglio. Mi chiedo se c'è qualcuno qui. Oh, no. Qui. Dove? No. 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 Oh, cibo. Mi sento così bene. Mi vedrà. Sento l'odore di qualcuno. Oh, no. Scappo. Torna. Così vicino. Ragazzo, resterò qui. Devo usare il bambam volante. Cattura qualcuno. Ok. Non c'è modo. Come mi hai trovato? Oh, no. Velocemente. Pozione. Non c'è modo. Dove è andato? Non lo saprai mai. Ah, facile. Me ne vado da qui. Veloce. Ho bisogno di un nuovo nascondiglio. Aspetta qui. Wow. Ehi, cosa ci fai qui? O me nascondersi. Attacca. No. Non c'è modo. Correre. Cosa hai fatto? No. Torna, Popka. Correre. Pulsante. Wow. Questo è etico. So dove è andato. Mi servono rinforzi. Siamo qui. Prendilo. Non stanno arrivando. Devo uscire. Oh, la prossima pozione. Sono fortunato. Bego. Bello. Dove è andato? Oh, lo vedo. È piccolo. Scappo via. Facile. Oro wow. Nel frattempo. Sento che c'è qualcuno qui. Aspetta. Uno, mi ha trovato? Vieni qua. No. Mi dispiace, maiale, ma è la tua fine. No. Wow, ho trovato questo posto illuminato. Il cercatore è qui. Devo stare attento. Popkat, spara. Ok. Bravo, Popka. Oh, no. Qui. Wow. Il miglior nascondiglio di tutti i tempi. Dove sono e che è questo? Dottore, che sta arrivando? Come? Dove è andato? Un giorno dopo. Ok. Sono rimaste solo cinque persone da mangiare. Schierare due mostri. Credo che questo maiale sia troppo lento per prendermi. Umè, aspetta. Nu. Nascondersi velocemente. Evviva. Penso che questo maiale sia troppo lento per prendermi. Aspetta. Jumbo. Nabnab. Sono laggiù. Stanno arrivando. Nasconditi. Ci sono solo alcuni polli. Co, 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 co. Non siamo sus. Metti mi piace e iscriviti per avere l'uovo d'oro accanto al tuo letto domani. Era così vicino. Un'ora dopo. Questo posto è orribile. Umè, aspetta. Siamo nuovi cercatori e vi prenderemo. Fratello e sorella, lo attaccate. Sposto. Umè. Pensa che non lo troveremo. Oh no. Cercherò di nascondermi nel frigorifero. Adesso. Aspetta cosa c'è dentro. Pozione. Cosa? Devo berla rapidamente. Umè. Ti vediamo. Noi ti vediamo. Devo diventare più piccolo. Sto uscendo. Oh no. Veloce. Morirò qui. Non c'è posto per nascondersi. Umè cosa? Torna. No. Devo scappare. Wow, un nuovo posto. Vedo pigster. Prendetelo ora. Scappo. Umè, sono dentro di lui. Fratello, l'hai mangiato. Oh, mi dispiace tanto. Usciamo da qui. Aspetta, sono ancora dentro di lui. L'hai preso? Sì. Sto uscendo da qui. Umè. Aspetta come? Um. Scappo. Qui. È scomparso. Ok, ci servono altri mostri. I bambini entrati. Ora prendeteli. No, stanno arrivando. Mi nasconderò. Qui. Bello. So che è lì. Lui è... Mi veloce. Ciao. Ehi, torna indietro. Siamo così grassi. Ok, ce l'ho fatta. Sono in classe con Bambalena. Bambalena. Pensavo fossi morto. Oh, non importa. Lei è morta. Hoppia ciao. Nasconditi Popcat. Oddio. No. Ah. No, è morta. Pensi che non sappia dove sei? È la tua fine. So dove sei. Dove è andato? 20 secondi prima. Devo uscire da qui. Wow. Oh no. Ho sentito che Stinger è morto. Penso che nessuno mi troverà. Ti vedo. No, per favore. Qui. Umme. Vieni qui. Sì, mamma, prendilo. Lasciami in pace. Lei è un perdente in piedi. Quindi siamo vivi solo io e Giambo. Solo vivo, ma aiuto. Qui. Wow. Sono troppo grasso. Lo farò per te, mamma. Oh no. Sta entrando. Wow. Sono al sicuro qui. Non per molto. Ma qui di sicuro. Non c'è modo. Ok. Giambo è morto. Quindi ora devo sopravvivere e vincerò. Aspetta. Non c'è modo. Quale scivolo scegliere? Pigster. Sono nello scivolo. Oh no. Chi è questo? Torna. Sto scegliendo questo. Oh no. È la mia fine. No fratello. Siamo qui per aiutarti. Oddio Nub Nubs. Non c'è modo. Wow fratelli, abbiamo vinto. Grazie a tutti per aver guardato. È tutto per oggi e ricordate, non mollate mai e poi mai. Ragazzi, ciao.